Il Comune di Teramo ha deciso di chiudere sei asili nido comunali almeno fino a venerdì a causa dell'emergenza caldo. La decisione è stata presa attraverso un'ordinanza comunale in risposta alle difficoltà legate al microclima interno delle strutture. L'amministrazione ha ritenuto necessario intervenire per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale. L'ordinanza sarebbe scaturita anche dalla segnalazione fatta dai sindacati alla ASL, volta a chiedere la verifica delle condizioni ambientali nei nidi e dal successivo sopralluogo dei tecnici comunali nelle strutture. Sono circa 250 tra bambini e personali interessati dalla problematica su cui CGL e CISL hanno voluto fare il punto. Noi esattamente il 14 dicembre del 2023 avevamo già fatto una richiesta scritta, mandata in prefettura con una procedura di raffreddamento in cui segnalavamo il problema e avevamo già detto al Comune di Termo che dovevano essere adeguati i nidi di infanzia. Non è stato fatto nulla, non solo questo. Avevamo anche un mese e mezzo fa in assemblea con il sindaco cercato di proporre soluzioni alternative, vedere se magari il campo sostitivo poteva essere accorciato, se potevano essere messi i bambini dentro la struttura più funzionale, nemmeno questo. E quindi siamo arrivati ad oggi che nessuno sa cosa fare, perché chiaramente c'è un'ordinanza fino a venerdì e non sappiamo poi se l'ordinanza potrà protrarsi. Con tutti i disservizi possibili e immaginabili. Anzi, in questa sede vogliamo anche ribadire che noi siamo vicini ai genitori, perché è un disservizio che non è dovuto da un evento atmosferico straordinario, ma da un evento atmosferico che poteva prevedersi. Quindi chi paga questi giorni di chiusura? I danni per cui in questi giorni subiranno i genitori, cioè babysitter o altro, chi li paga? I sindacati da tempo hanno evidenziato le criticità e i rischi per la salute derivanti dal caldo eccessivo, sollecitando un intervento immediato. La situazione nelle ultime settimane si è aggravata con le alte temperature che hanno reso insostenibili le condizioni all'interno degli asili nido, nonostante gli sforzi fatti per mantenere un ambiente confortevole. Hanno dato dei pinguini che sapevamo che non erano utilizzabili, era stato già detto, ci hanno parlato in tutti i modi. Solo ieri mattina si sono resi conto, andando nei nidi, ad accenderli. Al momento in cui li hanno accesi hanno visto che erano inefficaci, inefficienti e giustamente gli impianti elettrici non reggevano. Ovviamente il problema adesso è ok fino a venerdì, ma poi per il futuro? Purtroppo non sappiamo. Io spero che in questo momento stiano in emergenza mettendo i condizionatori nelle strutture. Se non fanno questo, mi dispiace, quei nidi non possono riaprire.